Nel 2010 gli italiani non hanno dichiarato al fisco redditi per quasi 50 miliardi di euro, una somma cresciuta del 46% rispetto all'anno precedente. È il dato principale del rapporto annuale della Guardia di Finanza, già reso noto dal comandante delle Fiamme Gialle, il generale Nino Di Paolo, ai membri della Commissione Finanze della Camera. Ma non solo, la Guardia di Finanza ha inoltre scoperto 8.850 evasori totali, in aumento del 18% rispetto al 2009. Persone e aziende che pur svolgendo attività economiche non hanno mai presentato una dichiarazione di redditi e che nel 2010 hanno evaso redditi per oltre 20 miliardi di euro e IVA per 2,6 miliardi. Di questi 3.288 hanno evaso più di 77 mila euro di imposte e sempre nel 2010 gli italiani hanno anche evaso quasi 30,5 miliardi di IRAP e 6,3 miliardi di IVA. 635 invece i milioni di ritenute non versate o non operate. Dei quasi 50 miliardi nascosti al fisco, 10,5 sono quelli individuati nei casi di evasione fiscale internazionale, quasi il doppio del 2009, realizzati attraverso operazioni di esterovestizioni della residenza di persone fisiche o società, triangolazioni con paesi offshore e omesse dichiarazioni di capitali detenuti all'estero. Ad ospitare i soldi di questi evasori sono principalmente il Lussemburgo e la Svizzera dove è stato individuato oltre il 50% degli oltre 10 miliardi evasi. Seguono il Regno Unito con il 7%, Panama 6% e San Marino 2%. Complessivamente emerge dal rapporto che nel 2010 i militari della Guardia di Finanza hanno svolto 31.777 verifiche sui fenomeni di evasione, illusione e delle frodi più gravi e diffuse, 79.872 controlli sui singoli atti di gestione e 779.863 controlli strumentali, quelli riguardanti il rilascio di scontrini e ricevute fiscali. Infine sono 18.541 i lavoratori utilizzati in nero da 7.822 datori di lavoro di cui 5.508 di origine extracomunitaria.